Ciao a tutti e ben ritrovati con il Red 300, il meglio della settimana, due quattro ruote, compresso in cinque minuti, poco più o poco meno. Come sapete siamo vicini alla cosiddetta fase 2, quella in cui, pur con diverse limitazioni e a certe condizioni, potremmo iniziare a muoverci un po' di più, muoversi dunque preferibilmente con i mezzi privati. Primo, perché usufruire di quelli pubblici sarà decisamente più difficile, le giuste e inevitabili misure di distanziamento allungheranno le file ai tempi di percorrenza. Secondo, perché in molti preferiranno tenersi lontano da possibili fonti di contagio. Insomma, scooter, moto e auto private, senza dimenticare le biciclette, verranno utilizzate molto di più rispetto a quanto fossimo abituati fino a pochi mesi fa. E non pensate che la mobilità privata sia per forza di cose costosa o poco sostenibile. Gli scooter elettrici, molti dei quali a basso costo, sono la risposta perfetta per questa fase e il colosso cinese Xiaomi a diverse proposte molto interessanti che tra poco vedremo nel dettaglio. Insomma, iniziamo, ma prima vi ricordo di iscrivervi al nostro canale YouTube e di cliccare sulla campanellina per ricevere le notifiche, ma anche di seguirci sui social e ovviamente su redlive.it. L'azienda cinese Xiaomi, tra le più importanti nel settore della telefonia e della tecnologia in generale, già da un paio d'anni è nel mercato degli scooter elettrici con diversi brand e ancora più modelli. Con l'MI Chimo T1, per esempio, un po' bici per la presenza dei pedali e un po' scooter, ha il motore da 350 watt e un'autonomia fino a 120 chilometri. C'è poi Super Soco, brand che nasce come indipendente e poi viene assorbito da Xiaomi che propone ben tre moto e lo scooter CUX. Gli ultimi arrivati sono invece i 70 Mai A1 e A1 Pro, linea essenziale, connettività ai massimi livelli, con tanto di videocamera integrata nel faro anteriore a LED e assicura un'autonomia massima di 75 chilometri e una velocità massima di 25 chilometri orari. Tutti i dettagli li trovate nel link in descrizione. Anche Suzuki, come diverse altre aziende, proroga la scadenza della garanzia di auto e moto, uno dei provvedimenti più importanti che una casa possa prendere a tutela dei propri clienti. Nel dettaglio, vengono prorogati i termini di scadenza della garanzia e la stessa non decade nel caso in cui gli interventi in officina previsti durante il blocco vengano effettuati entro un mese dalla ripresa dell'attività. I concessionari Suzuki sono a disposizione dei clienti per fissare gli appuntamenti relative alle campagne di aggiornamento prodotto. Interventi che saranno comunque effettuati solo una volta terminata l'emergenza. Tutti i dettagli nel link in descrizione. Da non dimenticare inoltre che i concessionari Suzuki sono a disposizione anche per supportare i clienti nella scelta e nella configurazione della nuova automoto o fuori bordo. Ancora estensioni di garanzia, questa volta da parte di Yamaha. La casa giapponese ha prorogato di tre mesi tutte le garanzie di fabbrica e i pacchetti di garanzie estese ufficiali che sono scadute o scadranno tra il 1 marzo e il 31 maggio 2020. Questa estensione della data di scadenza delle garanzie applicabili a tutti i veicoli e ai prodotti marini Yamaha. In più, i clienti che necessitano un intervento in garanzia possono contattare il proprio concessionario ufficiale Yamaha per prenotare un appuntamento che verrà effettuato non appena le disposizioni del governo e delle autorità locali lo consentiranno. Le iniziative dei costruttori in risposta al Covid-19 sono tante e di natura differente. In più di un caso, inoltre, è successo che una stessa azienda abbia intrapreso più strade. Quella della proroga della garanzia, quella di nuove metodologie di acquisto, oppure non meno importante, quelle di supporto logistico e o economico a enti e organizzazioni che supportano i bisognosi. È il caso per esempio di Hyundai che ha dunque deciso di raggruppare tutto questo in una stessa pagina presente sul proprio sito. Hashtag torneremo a viaggiare. Come Hyundai, Kia si è impegnata su più fronti in risposta all'emergenza Covid-19. Qui vogliamo porre l'attenzione su quella che possiamo definire la più umanitaria, cioè l'iniziativa Italia Chiama. Di cosa si tratta? Della piattaforma di solidarietà per la consegna a domicilio delle spese per anziani, che ha più di 65 anni, e persone con disabilità. In che modo? Mettendo a disposizione una flotta di Sportage per l'effettuazione appunto delle consegne ai più bisognosi. Nel link in descrizione tutti i dettagli. Per questa settimana è tutto, se vi sono piaciute queste novità o anche se non vi sono piaciute fateci sapere sempre cosa ne pensate qui sotto nei commenti. E a presto, ciao!